buongiorno a tutti sono tommy tomo e benvenuti al secondo episodio di happy wheels oggi partiamo con arrow run questa volta dicevo di partire con una possibilità diciamo a tutti eeeh sono defunto che bello comunque oh damn it oh mio dio quanto lagga mi lagga da paura baby se ti ho preso se vabbè mi blocco qua ce la faccio e no e no avete visto tutti ho vinto perché non me l'ho preso perché quello che l'ha fatto si è sbagliato e ha messo male il la monetina della vittoria push e la mia reazione è nessun commento commentate qua in basso gentilmente qui in basso qui all'estremità ok scomparso scomparso va bene ho deciso facciamo così eeeh this week vediamo questo mese eeeh mettiamo in pausa tornerò quando si sarà caricato eccoci quattro armati ebbene cominciamo bene eeeh beh uh ce l'ho fatta forse eeeh like a boss scusatemi dove abbiamo fatto questo benvenuti ok vediamo di non fare la fine dell'altro ah è vero questo mh vediamo di non fare la fine dell'altro uh 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 no no ce l'avevo quasi fatta ok ci sono oh ah oh oh eeeh e va bene ho perso un braccio ce la farò con un unico braccio ce la posso fare almeno dai dai grappati grappati oh dai oh no va bene rifacciamo dai questa volta me lo sento ce la posso fare re cosa ok ci sono ci sono ci non ci sono si certo che se non mi prende il coso e ancora qualcuno mi spiega perchè su staccati staccati litigare con un come si chiamano aspetta ehm come si chiamano i i i seadway mi sembra seadway si una roba del genere roba americana no no si no 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 dai non è giusto no va bene giù di testa giù di testa giù di testa eh ci sono ce faranno i nostri eroi bomba ah oh no non ci credo ci sono ci sono ci sono ci sono no Ma dai Oh eh Questo livello Mi vuole male Cosa ho appena detto Cosa ho appena detto Mi odi Cioè Qualcuno mi Come è possibile Come è possibile Ho appena fatto Un volo Del genere Dai su Lo sanno tutti E due Oh eh Oggi è proprio Il mio personaggio Ha proprio voglia di fare Il Volo Imparare a volare Stai calmo Stai calmo Ancora un paio di volte Dopo mi fermo Perché No si Ragazzi Ci abbiamo fatto Grazie Grazie a tutti Va bene Tosa erba Andiamo giù di tosa erba Mmm no Ho capito Qua non ce la facciamo Ah Santo chi se ne frega Andiamo sul goblin Il goblin Rasta Eh ma No Ho sbagliato Scusatemi Sono stato Sono abituato Con Con Minecraft A piggiare Z Per Abbassarmi E mi sbaglio Sempre Occhi rossi Dove ho ucciso Un paio di persone Oppure Andato un po' Troppe feste Ma Sono indifferente Va bene Bocca Yeah Anzi facciamo la bocca A forma di sci Mi piace No 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 Ci credo ancora No No Ancora No Scusatemi Basta Ho biglietto Adesso arriverò Allo stesso punto di prima Perché altrimenti Eccoci qua Sono tornato Ok ci sono Ok Ok Troppo bello il cappello Che sembra Un giradisco Allungato Yeah Visto che è bello Anche se ho sbagliato A fare la bocca Perché mi sono Sbagliato Vabbè comunque Non lo farò Vabbè proviamoci Tana Presa What Cos'è Cosa do fare Non lo so Non lo so Non ho voglia Di fare ste robe Basta Ciao Io gli odio Questa cosa qua Che non capisco niente Ok Oh mio dio What What the fuck Surprise Surprise Cosa c'è di surprise Vido la TNT Che sta prendendo fuoco Ok Ok Ci sono Ah What Paura di saltare per aria Ok Ci sono Ci sono Ci sono Oh mio dio Cosa vuoi fare Nulla Quanto pare Ok Rallenta 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 No 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 Scusami Bambino Non lo volevo fare Apposta Paura Dovreste sentire I suoni che sento io Qua salta Ogni Tre metri Salta qualcosa Per aria Bene Ho vinto Merge Ma Non so Non so se mica l'ho fatto Già Può darsi Sì Va bene Stavolta Vincerò Scusatemi Per il livello Ho già appena fatto Questo qua Basta Dai Facciamone uno Che non l'ho ancora fatto Ok Beh Ci possiamo fare Proviamoci Ok Capito Qua io non ce la farò mai Però Visto che io sono Devo prendere qualcosa di Più preciso Lo so Prendo sempre questo personaggio Ma Non Eh Questo qua Crepo già Lo so Lo so Mi sembra Che qua Sia quello Di andare Pianissimo Mi sembra Sono quasi sicuro Oh No No Ecco Questa parola Sto per dire Questa Dai 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 Ecco qua Di nuovo No 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 Così Adesso lo farò proprio così Certo che magari Non così 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 Oh Go to the hell Go to the hell Devo andare un pelo più lento Ecco Mi sono appena amputato i testicoli Adesso avete visto come si fa Bisogna soltanto Amo la pena sfiorare il tasto Questo qua non l'ho giocato Bene Proviamo questo Mi piace Totoratototororotorotorotorotorot Puccia dai Puccia Su Dai Non volevo farlo Ok Perfetto Totototototodo Sto tirando su un po' di tutto Vabbè Aspetta forse questo ci riesco Perché ci riesco Non ci riesco mi dispiace Sì sì ci sono riuscito va bene Adesso cercherò diciamo su Happy Wheels Visto che è un gioco che non si sa mai quando Finirà diciamo Perché è molto lungo Cioè capita che a volte un livello Ti duri un'eternità Quindi Visto che adesso Diciamo abbiamo tolto Avete presente il limite per i minuti Cioè non so chi è che l'ha tolto Penso il nostro amico da Xenon E con ciò Penso che sia stato tolto Mi sembra che sia stato tolto però va bene E con ciò quindi riusciremo a caricare anche Più o meno Cioè riusciremo a caricare a volte qualche video Con un paio di minuti in più Però visto che Sono più comodo Diciamo così Con Il formato da 15 minuti Perché è diciamo più semplice E Diciamo che Faremo comunque Video da 15 minuti Però a volte Anche un po' di più Anche un po' di più E con ciò quindi Faremo Comunque Come posso dire Adesso mi sto incantando Scusatemi Però faremo sempre Così da 15 minuti O a volte Capiterà che lo faremo Un po' più lungo E però Questo perché Almeno Riusciremo a fare più video E Essendo un po' più corti Riusciremo a farne un po' di più Diciamo che è anche un po' più comodo E Comunque E quindi E Come posso dire Capiterà a volte Che ci saranno Quei video Cioè abbiamo fatto Diciamo perché Così quei video Non mi ricordo più Se dovevo andare indietro Tutto Vabbè Sì mi sa che sì Va bene Comunque Sì va bene Nel frammento Nel frammento In cui torno indietro Ecco Cazzo qualcuno Spero Vi prego di non scrivere Cose sconce Su questa immagine Dai Su Bene Perfetto Comunque E quindi Capiterà a volte Che capitino Dei video Che durino Che ne so Qualche minuto In più Visto che adesso Mi sto Veramente Bloccando Vi saluto E tornerò Con la continuazione Nel prossimo video Nel prossimo video Nel prossimo video